La rigida scelta laicista francese che ha storicamente confinato le religioni nella dimensione individuale, escludendo in ogni manifestazione pubblica, sociale e collettiva, sembra avere innescato gravi torsioni identitarie delle minoranze di religione musulmana che si sentono escluse dalla cittadinanza attiva. Quindi la lezione che noi dobbiamo trarre dai recenti attentati terroristici in Europa e dal crescere dei nazionalismi, delle intolleranze e dell'odio per le diversità è che il male non si concentra soltanto al di là del Mediterraneo, ma ha origini profonde anche all'interno delle società europee, nella marginalità, nelle diseguaglianze, nell'esclusione dalle nostre periferie, che senza adeguate politiche pubbliche che si trasformano in aree di vulnerabilità al radicalismo, alla violenza, all'illegalità.